In un momento di pausa, ormai siamo verso l'ottava ora di questo walk around, incontriamo Claudio Scaldaferri, un militante che incontriamo spesso nelle manifestazioni che LibriTV segue, soprattutto a Roma, potremmo pensare che si muove da Roma a Roma, invece no, lui è un militante che viene da Praia Mare, dalla Calabria, nonostante così lontano, molto spesso lo vediamo in queste manifestazioni, lo vediamo oggi, le incontriamo in questo walk around. Claudio, intanto volevo chiederti per venire quanto ti c'è voluto? Per venire ho preso il treno stamattina alle 8 e 10, da Scaldaferri sono arrivato alle 13.34 in Intercity, devo dire puntuale e anche pulito, un ottimo viaggio con tutti i comfort in rapporto al biglietto pagato. Senti Claudio, come molte persone che però magari non compaiono in queste manifestazioni, non si espongono, ma in Italia sono molte, mi hai accennato che hai avuto delle esperienze in qualche modo familiari di situazioni drammatiche di persone malate, in cui ovviamente questa ipotesi, ipotesi, che per il momento sono ipotesi, di allargamento alla possibilità di scelta delle persone tramite l'autoranzia sarebbe potuta essere, non lo so, un menu, diciamo, fa parte di un menu tra le scelte della vita che spesso le persone possono fare e che invece ovviamente attualmente non possiamo averlo. Ecco, ci puoi raccontare di chi si tratta? Sì, ho avuto, penso come sia in molte famiglie, la malattia che penso possa essere ben rappresentata come la lotta che noi da anni portiamo avanti di una sanità che fuori dalla ricerca che noi proponiamo non aiuta anche nell'informazione a avere comportamenti, come dire, modelli e soprattutto conoscenze che permettono appunto di salvaguardare la propria salute a 360 gradi. Quindi casi di malattia nella mia famiglia ci sono stati purtroppo e anche molto gravi. Io ho perso una cugina per un male incurabile e anche lì, come dire, l'informazione, la conoscenza, la paura di doversi imbattere in qualcosa di grave e la mancanza in alcuni casi di professionalità e anche, posso aggiungere io questo, in determinati territori dove, tra virgolette, una imbostazione clericale che non ha nulla a che vedere con l'autenticità della spiritualità di tante e tante persone, ha prodotto un approccio nei confronti di situazioni tipo quella appena descritta che pongono poi la persona all'interno di un insieme di condizionamenti che non gli permettono, viceversa, di poter avere lo spirito giusto per essere parte e artefice del rapporto con il medico, quindi di avere un rapporto alla pari con la propria libertà e quindi la propria autodeterminazione che costruisce la professionalità perché è la stessa, è una simbiosi tra paziente e medico che non è un problema di tizio o di caio, è un problema di malessere della democrazia e neanche, io prima ho fatto riferimento al territorio ma non perché lo stesso magari, tra virgolette, è arretrato rispetto ad altri, perché lo sviluppo economico, sociale, la storia poi ha creato una presenza anche sostitutiva nel senso di un welfare sempre più di assistenza e quindi anche di una presenza distorta di determinate istituzioni che poi hanno finito per contagiare e quindi per deteriorare in primis anche tutto quello che è di buono comunque, per esempio la spiritualità vera, sentita, io vivo in Calabria, ci sono tante feste religiose, si vede una spiritualità autentica, vera, che per me non avrebbe nulla in contrasto con un approccio scientifico laddove forse proprio quella autenticità significa apertura nei confronti della ricerca scientifica e quindi di uno Stato che distingue e quindi esalta praticamente quelle tradizioni, quella cultura e quella religione. E quindi quei drammi io li ho vissuti in un'assenza di strumenti che poi bene o male li si può ritrovare in qualsiasi parte, in qualsiasi situazione, laddove appunto il servizio sanitario non riesce ad offrire quello che potrebbe perché la scienza vive la propria salute nella salute della democrazia e nella ricerca quindi di un benessere che molto spesso lì ha condizionato anche il lavoro e l'economia a situazioni di compromesso che poi hanno condizionato e condizionano diversi aspetti e diversi settori. Su questo aggiungo questo che in tanti modi poi un determinato processo di sviluppo economico, un determinato benessere noi lo paghiamo in queste contrapposizioni, in questo equilibrio di scompensi, lo dico perché l'altro giorno siamo stati ad Arghillà, al carcere nuovo a Reggio Calabria, un carcere aperto da poco e per arrivarci siamo passati in dei quartieri davvero degradati con la spazzatura in mezzo alla strada che ci hanno fatto una notevole impressione, un carcere nuovo, non so quanti anni ci hanno messo per costruirlo, c'è un piano comunque che ancora non è stato aperto perché ci manca la disponibilità e quindi come praticamente poi al sud tante opere, tanti soldi hanno visto lo sperpero in termini di tempo e di qualità poi del servizio e quindi poi quando uno si rivolge alla sanità non è che poi il medico che ti segue o questo o quest'altro può essere al di fuori di una, ci sono anche al sud ed è la verità tanti centri di eccellenza che vanno bene e offrono un ottimo servizio. Il problema è che però come per esempio per le carceri diventano non il presupposto perché quella eccellenza poi significhi ricerca e permetta una sanità a mio modestissimo avviso molto leggera sul territorio, noi abbiamo bisogno di questo con ambulatori che poi a rotazione con diversi professionisti coprono le esigenze di questa specificità piuttosto che di quest'altra e con integrazione con altri aspetti, con la tutela dell'ambiente, con l'inquinamento con la tutela del territorio che permettono appunto anche un ripensamento dei costi, delle spese per un servizio che soprattutto al sud, io vengo dalla Calabria dove c'è stato un dissesto nell'ambito della sanità notevole che possono permettere alla gente di avere un rapporto con la propria salute diverso da quello che è stato e in questo blocco è inevitabile che il paziente ed il medico non hanno strumenti per capire, per conoscersi e quindi per costruire insieme nel rapporto la professionalità e fare scienza, fare in quel rapporto medicina poi la medicina e la discussione, la salute della democrazia perché la discussione della democrazia è lo strumento che è la libertà del paziente attraverso gli strumenti e le istituzioni mi permette poi di verificare sul campo e di costruire anche giorno per giorno con il mio rapporto con il medico e con il dottore tante cose vanno bene, bisogna dirlo, ci sono tanti centri di eccellenza anche al sud che funzionano bene come anche in Italia, noi penso che abbiamo tanti centri di eccellenza in tante altre parti d'Italia però purtroppo il rischio è quello di vedersi travolti anche in queste eccellenze dalla crisi della democrazia e soprattutto una crisi storica, perché lo dico perché essere qui con la Coscioni significa manifestare per una PDL una proposta di legge di iniziativa popolare sottoscritta da migliaia di cittadini italiani noi abbiamo fatto un tavolo anche in Calabria, abbiamo raccolto le firme con la maggioranza italiana che da anni sono a favore di una legislazione di questo tipo e non ce la si fa e poi non ce la si fa contro la volontà della gente quindi non ce la faccio qui, significa che poi non ce la faccio con il rapporto con il medico non ce la faccio ad avere un servizio professionale sanitario all'altezza perché gli aspetti non sono scollegati come purtroppo la partitocrazia e queste informazioni li presenta ma sono stettamente connessi l'uno all'altro grazie a Claudio Scaldaferri grazie a voi